Ciao, benvenuto o benvenuto in Yabla, il modo più divertente per imparare l'italiano. Yabla è un sistema davvero speciale ed offre video interattivi con sottotitoli multilingue. Ogni settimana vengono pubblicati nuovi video prodotti solo da madrelingua italiani. Ce n'è per tutti i gusti! Video musicali, interviste, notizie attuali, telefilm della tv italiana... Tutto senza interruzioni o censure. Ma come funziona Yabla? È semplicissimo! Ora ti spiego come usare lo Yabla Player. Se vuoi mettere il video in pausa, basta cliccare su Pose e il video si fermerà. Se invece vuoi continuare, clicca su Play. Il tasto Play e Pose si trova esattamente nello stesso punto del pannello di controllo. Se vuoi mandare avanti il video e saltare alcune parti, clicca su Skip. Se invece vuoi far ripetere una parte del video diverse volte, clicca sul Loop. Non hai capito bene quello che ho detto? Bene, hai due opzioni. Una è quella di far tornare il video indietro con il tasto Back. E l'altra opzione è quella di cliccare sul tasto Slow, che rallenterà l'audio senza deformare la voce. Provalo adesso mentre ti parlo. Visto? Appaio al rallentatore. Ma il mio tono di voce rimane lo stesso. Così puoi capirmi ancora meglio. Se i sottotitoli ti distraggono, li puoi nascondere cliccando sul tasto Hide. Per farli ricomparire, clicca sul tasto Show. Se è tutto chiaro, allora sei pronto o pronto per una piccola sfida? Che ne dici? Sì? Benissimo! Allora giochiamo insieme ai giochi di Yabla. Per iniziare, clicca sul tasto Games. Adesso puoi scegliere uno dei tre giochi. Se scegli il primo gioco, che si chiama Multiple Choice, dovrai trovare le parole mancanti nei sottotitoli. Ti viene proposto una lista di parole dalla quale puoi scegliere quella giusta. Il secondo gioco è Fill in the Blank e consiste nell'ascoltare molto attentamente quello che viene detto, perché dovrai digitare le parole mancanti negli spazi. Scribe è il gioco più difficile perché sei tu a trascrivere completamente le frasi. Se sei un insegnante, puoi usare questo esercizio come compito a casa per i tuoi alunni e confrontare poi le risposte su internet. Non è finita qui! Se vai nella pagina dove ci sono tutti i video, vedrai che c'è un banner verde sotto il video con su scritto Review Vocabulary. Questo è un ottimo esercizio per ripassare alcune parole del video e il loro significato. Hai visto com'è semplice e divertente imparare l'italiano? È come andare in Italia senza prendere l'aereo, il treno o la nave. Non ti resta altro che scegliere il piano più adatto a te e cominciare a divertirti. Grazie per aver visitato Yavla e ti aspettiamo qui prestissimo! Ciao!